buongiorno e buon buongiorno e buon 23 aprile a tutti vigilia di milan lazio milan deve dimenticare il pareggio contro il parma il milan deve dimenticare il campionato l'atalanta che l'ha raggiunto in quarta posizione anche se il milan è sempre avvantaggiato avvantaggiato per lo scontro diretto obiettivo ora numero uno del milan contro la lazio e poi ma ci penseremo da giovedì contro il torino aiutare piontek aiutare piontek far sì che piontek abbia più palloni in area da giocare da tirare da un piontek che abbiamo visto pochissime volte impegnare il portiere avversario ma non per colpa sua non arrivano palloni piontek è là isolato ho letto delle statistiche proprio sulla app di one football ho letto delle statistiche sulla app di one football che parlano di un piontek spesso isolato domenica si è dovuto inventare una girata in mezzo tre avversari piontek è il canoniere del milan il vice canoniere del campionato è davanti addirittura al grandissimo cristiano ronaldo però l'abbiamo visto protagonista poche volte poi come tutti gli attaccanti fuori dall'area si deve andare a prendere il pallone abbiamo visto perdere i palloni palle abbastanza banali ora per gattuso si tratta di e il fatto che entri pacchetta vorrà dire molto in questo senso il milan deve riuscire ad aiutare di più piontek qualcuno dice con cutrone di fianco gattuso sappiamo non ama le due punte ha provato con iguain senza troppo successo anche per la scarsa forma in quel momento di iguain però il milan che tira pochissimo in porta che segna pochissime in queste ultime partite perché abbiamo passato abbiamo parlato sempre di un milan che ha vinto una partita nelle ultime sei ma realizzando praticamente pochissimi gol forse mai andato in anzi senza il forse non è mai andato in doppia cifra 1 a 0 1 a 1 addirittura senza realizzare gol come è successo contro e forse solamente ecco con l'inter è riuscito andare in doppia cifra ma in una sconfitta poi da quella partita sempre massimo un gol addirittura 0 quindi un milan che deve aiutare il suo centramanti il suo centramanti in questo momento è troppo isolato sarà solo un problema di paquetà questo ce lo auguriamo paquetà è importante ma quel piontek che abbiamo visto potente volare via culibali parliamo di uno dei migliori difensori non d'italia d'europa e andare verso la porta impegnare il portiere avversario in quel lontano milan napoli di coppa italia nelle ultime parete non l'abbiamo visto è scomparso come è scomparso il milan alla davanti qualche tiro qualche tentativo ma molto saltuari abbiamo ancora negli occhi il primo tiro in porta con la lazio in trentesimo minuto un tiro da lontano molto facilmente parato da dal portiere laziale domenica scorsa un paio di conclusioni una parata e l'altra fuori proprio di piontek la seconda quindi in questo momento dattuso deve lavorare per mettere piontek in condizioni di fare male e quando la palla arriva lui poi piontek fa male questo quindi è il punto serve più coraggio non so serve cutrone non so serve soprattutto però aiutare piontek ad andare vicino alla porta ha sbagliato forse solo un gol banale da quando gioca al milan sotto porta se no se li ha inventati e caso vuole che quando poi piontek realizza il milan il milan acquista fiducia porta a casa punti però in questo momento piontek non riesce a dare aiuto alla squadra perché la squadra non riesce ad aiutare lui quindi è fondamentale che gattuso che oggi affinerà la formazione studierà le ultime mosse prima della partita di domani trovi il modo di aiutare piontek il milan le vittorie del milan passano per piontek nessun altro segna gol se non in maniera molto saltuaria e quindi deve essere lui ad aiutare essere aiutato per ripeto aiutare il milan quindi gattuso deve lavorare in questo senso far sì che piontek non rimanga isolato come un tuareg nel deserto se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di carlo peleganti grazie